Siamo qui in casa Gazzetta per annunciare una cosa importante, diciamo che è maturata un po' con il tempo in queste ultime settimane, sapevo che dovevo prendere una decisione importante e finalmente l'ho presa. Cago Benna, devi scendere. Questo mi ha detto la mia schiena qualche giorno fa ed io, che altrimenti da solo non l'avrei mai fatto, l'ho dovuta secondare, nonostante abbia lottato come in uno sprint con l'arco di trionfi davanti per sconfiggere il dolore nell'estremo tentativo di recuperarla al 100%, ma non posso prendermela con lei che mi ha sorretto per tutti i 18 anni di una carriera che per me è i colori dell'arcobaleno e come colonna sonora gli applausi di chi mi ha atteso lungo tutte le strade del mondo ore ed ore per vedermi passare soltanto per un secondo. Con un post sul suo profilo social e Instagram, Daniele Bennati, ciclista di fama internazionale, ha annunciato il suo ritiro dal mondo professionale. Lo ha fatto anche direttamente ai microfoni della Gazzetta dello Sport. La voglio annunciare con il sorriso sulle labbra perché comunque è stata una carriera veramente bella, importante, non mi pento assolutamente di niente rispetto a tutto quello che ho fatto, alle scelte che ho fatto, quindi sicuramente avrei continuato per un altro anno, se non due, perché comunque fisicamente era ancora integro, però come tutti sapranno a fine aprile ho avuto un incidente abbastanza serio e quindi ho cercato con tutto me stesso di recuperare al 100% l'infortunio alla schiena, però purtroppo non ce l'ho fatta. Attualmente la schiena non è recuperata al 100% e quindi ho dovuto prendere questa decisione. Sono sceso, scrive Bennati, ma da domani riparto per nuove avventure dove credo ci sarà sempre sullo sfondo quello splendido oggetto con due ruote a pedali che per me è la vita. A presto, Ben. Classe 1980 ha vinto in carriera due giri del Piemonte, tre tappe del Giro d'Italia, due al Tour de France e sei alla Vuelta in Spagna. Si è giudicato anche la classifica punti alla Vuelta nel 2007 e al Giro d'Italia 2008. Grazie a tutti.